Il vostro matiglio è qui nello spogliatoio del trafiume, con me presente Emanuele, attaccante. Innanzitutto, raccontiamo la partita di oggi. Bella partita, sotto per 3-0. Abbiamo avuto i coglioni, l'abbiamo tirata su. Siamo arrivati 4-4, sono felice. Questo è il mio esordio nella squadra, con una doppietta. Felice del gruppo, stiamo diventando un gruppo. Ringrazio l'allenatore, gentilmente. Sì, ringraziamo. Facciamo gli auguri di Natale. No, dai, concludiamo con gli auguri di Natale, ragazzi, vai. Auguri di Natale a tutti, a tutto il CSI, e anche la squadra e la mascotte fanno gli auguri, se vogliono. Non li fanno. Ok, dai, vabbè, li ha fatti lui per loro, dai. Perfetto. Grazie.